Il sogno di Beatrice conquista anche Pove del Grappa. Le parole della piccola Beatrice e il suo coraggio, la volontà ferrea di cambiare le cose per un mondo davvero senza barriere, penetrano nel cuore di chi ha la fortuna di incontrarla ed ascoltarla. A Pove in questi giorni hanno preso il via i lavori di realizzazione di un ascensore nell'edificio comunale che ospita la sala consigliare al primo piano, gli ambulatori al piano terra e una sala per incontri nell'interrato. Queste scale hanno rappresentato da sempre un ostacolo per tutti coloro che sono costretti su di una carrozzina. Verrà realizzato un ascensore all'esterno, come si può vedere partirà da quella fioriera che è lì rivestita di marmo e quindi si potrà scendere al piano interrato o salire nella sala consiglia. Quindi si toglieranno delle finestre, si faranno delle porte, sarà un ascensore esterno di quelli a norma, moderno, il costo dell'insieme dei lavori è di 70 mila euro. Questo intervento chiude la serie dei lavori dedicati all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici comunali, ma il sindaco assicura stiamo già pensando anche alle giostrine inclusive.